Se adesso vogliono dimostrare veramente all'Italia intera che vogliono fare di nuovo quello che ha fatto il Porto, adesso state fermi, come vi ho detto ieri, guardatevi, state tranquilli, ripostatevi un attimo, rilassatevi e aspettiamo che arrivino anche gli altri nostri fratelli. Siamo tranquilli adesso, seguiti, e vediamo se avranno di nuovo il coraggio di attacciarci a noi che siamo fermi qui, come prima, io spero che le immagini siano state girate e siano passate, perché veramente siamo arrivati alla fine del diritto della persona umana e adesso come noi non vola mai, la gente 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 come noi non vola mai, grazie. 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 Grazie.